Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme un paio di scarpe, le Nike Air Jordan 1 in versione i, nell'edizione Chicago, probabilmente la sneakers più famosa al mondo. Dimenticavo, prima di lasciarvi alla parte seguente del video, mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Ci vediamo dopo, ciao! La Chicago, già amatissimi dagli appassionati, è stata riportata alla ribalta culturale dopo che il documentario Netflix su Michael Jordan e Last Dance ha narrato le vicende dell'accordo del fuoriclasse statunitense con Nike. La scarpa è stata infatti una delle più popolari fin dalla metà degli anni Ottanta e ha innegabilmente contribuito a determinare la nascita del collezionismo di sneakers, a partire da una generazione di bambini e adolescenti che ambivano esclusivamente ad essere Like Mike. La colorazione originale Chicago, ispirata ai colori dei Chicago Bulls, rimane indubbiamente la più iconica. La colorway in questione è stata scelta come principale protagonista all'interno del primo round di release della collezione D10, realizzata in collaborazione tra Off-White e Nike. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi sia servito per apprezzare tutti i dettagli di queste bellissime scarpe. Come detto, questo modello è la Nike Air One, in edizione Chicago, è probabilmente la scarpa più famosa, nella colorazione più famosa di questo modello. Qui in alto trovate il prezzo bassissimo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare le scarpe e un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito. La qualità è ottima, la spedizione è stata molto veloce, è arrivata in 24 giorni e devo dire che mio figlio è stato entusiasta. Le aspettava da tanto, le cercava e devo dire che queste scarpe sono state veramente un bellissimo regalo. Ora vi lascio, ci vediamo a prossime recensioni, sempre sul canale. Ciao!